In un centro commerciale viene assunto in prova un nuovo ragazzo, sicché il direttore dice guarda qui si vende un po' di tutto, vediamo dai, fine giornata vediamo cosa è fatto. Va bene, va bene direttore, va bene, sicché quello si mette lì, passa la giornata. A fine giornata il direttore arriva e gli fa allora come è andata la giornata? Hai venduto qualcosa? Sì, sì, ho fatto una vendita. Come una vendita sola? Qui siamo abituati che i nostri venditori fanno almeno 30-40 vendite al giorno. Quanto ha incassato? Almeno aveva dato un buon incasso. È un cassa di 101.217 euro e qualche centesimo. Come tu ti avevi i soldi lì per una vendita? Che hai venduto? Sai, è venuto uno, gli ho venduto un amo per andare a pesca, poi ha detto pesci piccoli, pesci grandi. Lui era invece, gli ho detto vabbè guardi, prenda un po' tutte le misure. Poi per l'ami basta. No, no, poi mentre ero lì gli occhi ho chiesto ma lei dove va a pesca? Ma pensavo di andare a pesca sotto costa. E allora gli ci vuole anche una barca. Sicché gli ho venduto una barchetta, un 100 cavalli, nulla di che. Poi a quel punto gli ho anche fatto, scusi ma, e la barca lei con cosa la trasporta? Ce l'ha una macchina, un carrello? Eh no, non ce l'ho. E allora a quel punto gli ho venduto anche una macchina, un SUV, un 4x4 col carrello e tutto. Caspita però, eh. Questo è entrato per compranamo e te gli è venuto tutta questa roba? Complimenti, guarda, sei assunto, veramente, veramente bravo. Sì, ma che è entrato Penamo? Questo è entrato per comprare l'assorbente alla moglie. Al che l'ho guardato e gli ho detto, scusa eh, ma se devi stare una settimana senza scopà, almeno vattene a pesca e ti diverti, no?